Benvenuti su OBS, il mio canale, sul Tumbo italiano, con il Dottor Meg, il Signor Lune, e andiamo a cercare un favo in un nuovo episodio scoppiettante di Biosho, di Bastard. Praticamente siamo diventati gli orsi, siamo diventati il Pooh, il fottuto orsetto Pooh, se lei è l'orsetto io sono, come si chiama, Christopher Robin? Può essere. Non è una serie che abbiamo mai seguito con dovizia di... Comunque, e tutto questo lo farà il Signor Lune perché giustamente è l'orsetto. Sigla. Orbene, quindi... Allora, signor Lune, innanzitutto non c'è una freccia e la cosa mi preoccupa alquanto. Allora, SQM vedrà che adesso lei... Io sono qui. Allora, lui gli disse di prendere le scale... Ma cazzo, non me le poteva fare vedere, il merda. Ah, ma vada qui un secondo. Ok, e deve trovare quello. Ok. Vabbè, intanto mi guida lei, dottore, vero? Sì. Allora, prima ho creduto, signor Lune, tenga conto che probabilmente di fuori, in quella stanza che una volta era piena di... era disattivata con le torrette, ci saranno della gente. Ok. Quindi, lei l'elettro scarica ce l'ha? No, io l'ho disattivata perché sono una merda. Che dottore. Però, se trova qualcuno nella prima stanza, siccome lì c'hanno un sacco di roba che ha da far esplodere, può... Invento, ma qui non mi permette di fare niente. Provi a fare... E se... A sto punto provi a girarlo, signor Lune, che almeno gliene da di più. Dai. Allora, può fare il grimandello, che secondo me è molto utile. E io direi i corretti anti-uomo perché ne abbiamo usati parecchi. Posta. Poi se vuole i palettoni esplosivi, veda lei. Beh, sono solamente... Tanto, guardiamo un attimo su, guardiamo un attimo su Vettore Lazarus. Vettore Lazarus serve le acque distillate che in questo momento non abbiamo. E che comunque si serve. La clorofilla che l'abbiamo trovata, ma non... Non ne abbiamo tantissima. E... Niente. Quindi, quello mi sa che sarà il miele. L'acqua distillata. Occhio, è lì, ci sarebbe... No, lì vada col fuoco. Vada, il fuoco sull'olio. Esplode tutto. Non l'ha funzionato. Ok, adesso. Allora, è la cosa bella del fuoco, secondo me. Ok. Ma perché non muori? Eh, perché... Occhio! La cosa bella... Mediamente, la cosa bella del fuoco è che loro scappano. No, noi l'abbiamo usato molto poco, però a me piace, è sempre più... Occhio, se no, non è più pieno. Allora, lei non ha elettroscarica. Ah, ok, 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 ok. Oh no, ok! Allora, non ha elettroscarica, quindi... Se fermi un secondo, se fermi un secondo... Allora... La banca genetica, se vuole andare alla banca genetrica... Sì... È tra l'altra parte di questa stanza, quindi o corre... Però deve anche fare... Esatto, deve anche fare... È lì dove è la sua... No, dietro, dietro! Di dietro quest'altra colonna. Vada, vada! Ok. L'ho sbagliato io, chiedo scusa, e qui io... A questo punto la toglierei quello... Dalla telecinesi. Personalmente. Però veda lei, eh! Ora, torni indietro, torni indietro, torni un sfido indietro! Ok, perché lì... Ok, perfetto. No, scappi, scappi, scappi... Perfetto. Un seguito. Vada... Ok. Ale! E poi se ne vado subito perché... La stanno ancora... Merda! No, adesso lì ci pensa... No! Pensi prima alla torretta, pensi prima alla torretta. Eh, adesso, vai! Ok. Che tanto adesso questa la fa in automatico... Lei basta che adesso inizia a girare come un scemo che ci pensano le torrette... Adi? Ah, sì, sì, ma intanto... Ah, sì, sì, ma intanto... Ok. Fuga. Ok. Fuga, ma proprio! Cazzo, ma proprio! Un uomo! Perfetto! Come vede? Andata! Andata! Posto! Preso tutto quello fisico! Ora, la colofina mi sa che è a bomba, quindi la... è a posto. E... il Big Daddy lo lasci stare che no? Sì, non l'ha trattato male a nessuno. Ah, quella no! Lì c'è una torretta! Lì c'è una torretta! Guardi lì! Del rosso! Esatto! Ecco, adesso va vista anche lei! Quella! Perfetto! F, perfetto! Allora... Agiriamo tutto! Agiriamo tutto come se non ci fossero domani! Ah, dai! Boh, a sto punto... Ehm... proseguo per di qua? No, lì è dove ne viene! Quindi dovrebbe andare tecnicamente perfino. Allora... E qui, diciamo che ritornando dove eravamo prima, quindi... Tecnicamente se si guarda intorno... Esatto, dove ero io prima che me l'ho fermato che c'era quella biglietteria signora. Qua c'era uno stronzo che però... Non sto vedendo! Ecco come si faceva! E lì! Di dove? Qui! Ah no, scusi! Non è vero! Non ne sono sicuro! Laggiù forse! No, però non diventa rosso, quindi vuol dire che non lo sta mirando! E anche se lo mira, magari dopo non riesce a colpirlo perché... La distanza è troppa e non le da valido il colpo! No, l'azione arriva uno! Cosa è il merda! No, credo che lei abbia sparato una mina! C'è gente! Eccolo! Gli potrebbe dare fuoco volendo! Preso! Spada autore! Spada autore! Ok, posto! E' il fuoco se la giochiamo da codardi è buono! Mi va benissimo giocarmela da codardi! Purtroppo bisogna... Bisogna avere sempre almeno tre... E' pazientare molto... Ah! Guardi, signor Ruele! Ci sono le barre di cioccolato su da destra! Ecco, posto! Vabbè, è uoco però! Un colpo ce l'avranno dopo! Il potere dei cinque cereali! Il potere dei cinque cereali! Chi è? Sì, chiamo di Teramo! Che cosa rende una persona... Quattane bau! Osservo geni tutto il giorno... E mai che abbia trovato traccia della colpa! Potrei biasimare i nazisti... Ma in realtà... Nei mostri di Auschwitz... Non ho trovato torturatori... Ma spiriti affini... Le bambine che ho brutalizzato... Mi hanno risvegliato qualcosa dentro... Qualcosa che per molti... E' bello e naturale... Ma in lei... E' un abominio... E' un istinto materno... Allora... Guardi un attimo... Ah, quindi mi ha finito il capitolo... Bene, ottimo... Cosa? Eh, questi qui sono i soliti flashback del cazzo... Di quando eravamo sull'aereo... Guardi sono pompe... Sono pompe... LA POMPA! Niente, abbiamo finito... Perché evidentemente dobbiamo andare in un altro mini livello... Per sbloccare le cose che ci servono qui... Capito? Un po' come il livello in cui ammazzano la moglie di... Sì! Ah, Farmers Market... Questo me lo ricordo molto bene... Cioè molto bene... Con una sezione positiva o negativa? E' un... No... E' carino perché praticamente... E' tipo il mercatino di Natale... Come geografia... Ah, gli Obey Obey! Esatto... Quindi è una cosa simpatica... Comunque dopo... Diciamo che rispetto alle altre mappe che erano un po'... Erano forse un po' ostiche da capire... Questo è proprio... Basilare... Perché... Mi sembra che fosse una pianta quadra... Comunque una pianta abbastanza... Giù la mia cara... Io sto cercando di gestire un'impresa... Vuoi passare ore con le mie api da miele? Bene, dovrò iniziare a farti pagare qualcosa per il piacere... Se esco un'altra volta e ti ritrovo a ciondolarti tra i miei alveari... Giuro che prendo il fucile... Quanto alla tua domanda... Si... I miei giorni alla scuola di apicoltura sono lontani... Ma... Mi sembra di ricordare qualcosa di quell'enzima di cui continui a blatterare... E' meraviglioso sto posto! Eeeh... Secondo me una delle cose più belle di... Bioshock è il... La creazione appunto di... Delle mappe... E' l'ambientazione... Perchè sennò... Come gioco... Come sparatutto ce ne sono di meglio... Anche perchè come lei ben sa... Avrei preferito meno armi ma più indiscidere... Si... Allora... Sempre una telecamera qui... Ah no... Un attimo... Si sta comandando contro qualcun altro... Com'è? Si sta comandando contro qualcun altro... Quindi si stanno abbassando tra di loro... Mi sta dicendo... Ah si... Lì ci deve essere una di quelle torrette che spara bombe... Sulla destra... Capito? E io però andrei con l'altra... Non con questa... Occhio... Occhio... Vada... Pronto? Vada... Comunque hai ancora tanta vita... Però scappi... Scappi perchè... Esatto... Questa... Come alleato... E' tanto omicidiale quanto pericolosa... Niente... Al momento è salvo... Allora... Là giù c'è una telecamera... Si... Però non capisco da che direzione punta e dove... Ah li ci sono i... Da comprare... Ah... Ah... Ce li vedo... Allora... Ma... Può prendere... Eh... Questa è la che lo compra... Autogiro? Eh... Tanto è troppo... Costa troppo... C'è... Eh... Un paio... Un paio... Minimo... Ah beh... Nel resto direi che non ci interessa... Qui tra l'altro c'è una barretta... Se vuole... Guardi... Eh... Questo qui conviene girarlo... Secondo me... Si... Eh... Ci sono sempre quei paletoni esplosivi... Che per ora... Merda! Presa... Quasi al volo... Ora sappiamo... Lo stronzo là... Che spero... Verrà stanato... Dalla nostra... Amorevolissima... Se fa il giro si... No... Si... Lei ha i preti... Quelli per... Vieni fuori... Merda! Vado... Bastardo! Ah ma adesso lo trovo... Madonna! Tanta carne al fuoco... Mi pare di capire... Eh... Che cazzo... Che cazzo... Quanta gente... Cambia arma... Cambia arma... Cambia arma... Quella va sempre lì... Gli sono andati... Beh... Uno è in alto a destra... Ma non lo colpisca... Tanto è troppo lontano... Non capisco però... Perché stiano rossi... Vedi che dovrebbero essere i Saturnini! Non lo spiegare... Anche io voglio diventare... Quei veri... Maschi muscolosi... Che avete sempre desiderato... Si... Anche io voglio diventare quel... Maschio muscoloso... Occhio, oh, quella come il pane. Ah, vado un attimo sul potere. Così si ricarica. Ora. Ehm, dove qua? Tecnicamente no, però. È da uccidere quello. Bravo, signor Dune. Occhio. Vabbè, tanto era quasi morto. Stamane, durante la passeggiata, ne ho incontrati un paio. Lui, un mastodonte intenuta da palombaro puzzolente. E lei, una ragazzina lurida, con una sudicia camicetta rosa. Parla dei Big Daddy e... Sì. Aveva un pallore verde e malsano. E c'era un aspetto spiacevole nel suo comportamento. Come se fosse in un posto totalmente diverso da tutti noi. Ah, lì sono morto, mi sono. Capisco la necessità di tali creature. Vorrei solo che riuscissero a rendersi più presentabili. Una delle bambine è venuta a sedersi in braccio a me. Lo spinta via urlando, stammi lontana! Occhio, non usi l'elettroscarica qui che si trama anche lei. L'ha colpito? Sì, un po' sì. No, ha proprio ucciso. Grande schiena. Questa è stata gi... È sulla sinistra, è questa qui. E allora ho provato questo odio come mai l'avevo provato. E anche quello si è spinto. Nel petto, una furia amara e bruciante. Non riuscivo a malapena a respirare. E di colpo ho capito che non era quella bambina che odiavo. Quindi da Tannenbaum, gran rimorsi. Ora, noi dobbiamo invece andare là sopra. Però questo qui... Ah, si può girare, attenzione. Eh, minchia. Eh, eh. Proviamo. Eh, io direi di sì. Spero che adesso tocca andare per forza un invento un attimo o poi. Ora. Va bene. Dolloro. Quante cose. Eh, di, abbiamo... Ah, c'è un kit. Abbiamo anche speso un autogira che costa... La fortuna, sì. Eh, non ha il caricatore pieno, secondo me. Ah! Sbagliato. Scusate. Andiamo a farci un giro qua prima. Ah, aggiuniamo questo, che così... Ok. Vabbè, quando dopo ci sono gli armatiati avanti... Io ho paura che quello lì... Ticca. Ho paura che quello lì, appena qualcuno gli mette una fiammella vicino, esplode tutto e... Però, è anche vero che... Qua c'è un altro. No, quello è quello per i... È quello... È quello per i... Attenzione. Oh, comunque, signor lune... Dov'è che è il rombo che esplode? È tornato indietro, ma che scemo. Perché non esplode niente qui, dottore? Signor lune, ma lei... C'è nel punto che... Di cera? No, cazzo, vada qui. Lo vado a girare così, almeno. Non ho capito perché... Non doveva esplodere tutto lì? Secondo la sua previsione. Sì, ma lei doveva sparargli. E io ho sparato, ma... Ha sparato per terra, invece lei doveva dar fuoco per terra. E io pensavo di poter spararci. Il problema sa cosa ha fatto, lei è sbagliato. Perché lei è andato di spalle in una zona che non conosceva. Eh, ho vero, sono dettagli. Sono chiaramente dettagli. Ora... È in ginocchio. Sì, ora non lo so più. Dobbiamo vedere che armi usare. Perché qui iniziamo ad avere pochi colpi, lo sa dottore? Ah, questi sono i perforanti. O uso questi. Però dopo loro devo usare insieme alla... Devo usare insieme alla... All'acqua? No, no, il napam va bene da solo. Se no, se usa il... Il congelante lo dovrei usare insieme alla mazza. Esatto. L'idea è quella. Capito. Quindi niente, a questo punto devo andare dove eravamo prima. Allora, nella zona nuova però, stia attento perché... Ho visto, c'era la telecamerina. Esatto. Quindi lei va davanti con il... Con il coso. Occhio. Allora. Il perno dovrebbe essere... Subito qui dietro. Ah, non fosse sopra la sua testa. Perfetto. Salti. Ok, posto. Là. Perfetto. E questa zona l'abbiamo... Presa sicura. Anche poi dove venivamo... Nell'inizio, vede? Sì. Porca puttana. C'è sopra la mia mano. C'è sopra quella di fonte. Tutti noi tiriamo. E siamo tirati da essa. Sì. Queste bambine sono un abominio. Ma non c'era solo la mia mano sulla catena che le ha create. No. E guarda come si tira indietro il merda. Erano vicino alle mie. Quindi è colpa delle bambine se le abbiamo trasformate. Questa morire. Esatto. Mi sembra una visione assolutamente giusta e lecita. Può servire il merlot adesso? Ah, lì? Do può girare quello. Stanno andando dall'altra parte il pusso e non so se ne è reso più. Com'è? Stanno andando dall'altra parte. Allora lei lo inverte. Eh, t'ho fregato. Va. Esatto. Madonna, ha fatto bene andare lì perché mi pare che il resto fosse... Abbastanza... Stemmi, eh, signor Lune. Bravo, signor... La lungimiranza. È anche una sana botta di culo. Ogni tanto non fanno mai male. Là c'è un altro... No. C'erano gli scontoni. Ah, attenzione. I saldi di steam. Vuole andare all'invento, ma ti a vedere se riusciamo a farlo il... Cos'è questo ciclo? Ha presente quello che chiude gli allarmi? Una volta che l'abbiamo tirato giù, lui ci mette un po' a ricaricarsi. Dovrebbe essere così. Ah, ok. Se lei va indietro e va dritto e poi a sinistra su giù per le scale, trova sia il negozio che l'invento, Matt. Va bene. E magari prendiamo un po' di armi e vediamo se riusciamo. No, le armi non è quelle che... Fanno i torri sull'elettrici o la pellicola che non ce ne frega niente. Guardiamo qui. Grimandello elettrico, uno. E non so, vuole provare le anti-uomo. Ah, dimentico. Ah, ok. Ne ha talmente tante che... Ma quando mai? Sì. Però se il Grimandello possiamo andare alla cassaforte. Sì. E direi l'ultima cosa che facciamo in questa puntata. Allora... Esco la sinistra. E poi qui sulla destra. Ed è qui subito sulla destra. Out. Out. E dentro c'è... Na merda! Ah, no. Beh, oddio. Ah, l'azotto liquido ne abbiamo a schifo. Quindi... Notato. Sarà ora di iniziare l'utilizzato. Ma lo useremo solamente nel prossimo episodio. Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Vi invitiamo, come sempre, a commentare e iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Come sempre a fare tanto, 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 tanto l'amore. A prendere buone voti a scuola, come al lavoro. E noi ci vediamo sempre e soltanto su... Obblessi, il miglior canale sul tubo italiano. Con le serie belle e piene di dinamicità. Esatto. Ciao. Ciao. Tutti su Obblessi, il miglior canale sul tubo italiano. Io sono il signorune... Migliore. Io sono il dottor meglio, comunque. Il dottore! Comunque, sì. Cioè, l'ha detto mia madre. Il spirito. Cioè, è una fonte. Ah, vabbè. È una fonte. Cioè, è una fonte.